E' una buona domenica cari amici ben ritrovati sono Marco di Oggi Trading e Investimenti come ogni domenica andiamo a vedere insieme i mercati ma prima di iniziare guardate sotto il link in descrizione e potete vedere l'iscrizione al webinar di martedì 1 giugno tramite IG perché saremo parte della loro Academy dal primo di giugno quindi da martedì inizieremo questo nuovo percorso con IG e faremo parte della loro Academy quindi un'ulteriore dimostrazione di quanto Oggi Trading stia facendo bene con i propri corsisti abbonati premium e IG ci ha aperto le porte IG è il broker più grande al mondo potete cercarlo anche su internet noi siamo convenzionati e per avere questa bellissima piattaforma dove faccio io le analisi ogni domenica ci potete contattare a info chiocciola Oggi Trading punto it e mandando e mandandoci un'email ci potete trovare per chiedere un po' come si può usare questa bellissima piattaforma e comunque link è qua sotto per registrarvi ci vediamo poi martedì alle ore 21 e per vedere un po' insieme i mercati e soprattutto i cinque errori più frequenti che ci sono nei mercati quindi andremo a capire un po' le cose da evitare e come evitarle partiamo quindi con la nostra analisi partiamo dal dax vi ricordo che domani la borsa americana è chiusa poi per quanto riguarda invece qualcuno mi ha chiesto per il fuzzimib se il 2 giugno è chiusa ma rimane regolarmente aperta non ci sarà solo l'after hours quindi le quotazioni dopo la chiusura delle 17 e 30 però questo non ci riguarda quindi tutto aperto tranne domani per i mercati americani quindi partiamo insieme con una bella analisi sul dax cosa è successo sul dax è successo praticamente un po' nulla il dax ha aggiornato i massimi storici nella giornata di martedì 25 maggio poi secondo me delle prese di profitto di questi massimi hanno spinto le quotazioni fino a 369 15.369 ma nulla nulla di che io ho segnato a proposito di 15.369 un bel livello di supporto insieme a 15.251 quindi questi sono due livelli chiave mentre le due resistenze secondo me saranno 15.549 e 15.607 se dovessero essere rotti credo che il dax riaggiorni i massimi storici il trend come dico ormai non so da quanti mesi forse un anno ormai perché abbiamo detto già da maggio dell'anno scorso rimane rialzista almeno fino alla tenuta di 14.008 che l'ho segnato anche qui molto bene in evidenza da un po' di settimane e quindi poco da dire qua piccole prese di profitto la cosa interessante sarà da metà giugno fine giugno che potrebbe esserci un pochino di volatilità ulteriore da capire se sarà rialzo a ribasso ma mi aspetto un po' di movimenti un pochino più decisi e una volatilità che torna a essere abbastanza alta quindi terrei un po' la tensione molto alta non andrei ancora al mare in vacanza quindi state sul pezzo concentrati perché secondo me tra giugno e luglio ne vedremo un po' delle belle un po' di aumento di volatilità e vedremo un po' cosa cosa può succedere volatilità che ripeto potrà essere o rialzo o ribasso non posso immaginarlo prima e fare una previsione da guru in questo momento i mercati sono a rialzo se lo scenario cambierà saremo pronti a cambiare la nostra view in questo momento seguiamo i mercati seguiamo la forza molto decisa degli indici e andiamo avanti su questo tipo di operatività almeno nel multi day nell'intra day le cose cambiano come sapete soprattutto i nostri corsisti con le tecniche riusciamo anche a prendere degli ottimi trade sia in long che in short e le cose possono cambiare però andiamo avanti quindi un po' questi sono i livelli chiave per quanto riguarda il DAX andiamo avanti con il gold gold sempre molto forte siamo arrivati ai target di 1900 qua abbiamo detto di prendere un po' di profitti infatti il mercato poi è corretto fino a 1880 che diventa un ottimo supporto questa settimana a mio avviso con 1862 queste sono due aree interessanti di supporto sul gold e le aree da rompere per arrivare a 1934 secondo me sarà il 1916 quindi se il gold continuerà con questa forza che in questo momento è molto forte molto estrema e credo che dovremmo rivedere dei target più alti trend rimane assolutamente rialzista a meno di rotture forse sotto i 1862 che lì potrebbe cambiare un po' lo scenario ma è tutto da vedere nel medio comunque il gold rimane long addirittura qua c'è una nostra freccia di qualche mese fa addirittura il primo di aprile dove si indicava un cambio di trend sul gold quindi c'è ancora qualcosa di segnato comunque dando avanti questi sono i livelli chiave un po' per il gold euro dollaro anche lui rimane rialzista ha tenuto molto bene 2140 come supporto che ho segnato anche io qua nell'analisi resistenze molto forti qua 2230 2240 e 2270 queste sono tre resistenze veramente forti dove l'euro dollaro fa fatica ma come potete vedere un'eventuale rottura di queste aree ci spinge a trovare i massimi di periodo quindi area 123 vedremo secondo me può ancora farcela perché ha ricaricato molto bene qua sotto due supporti interessanti quindi a 121 41 e 120 72 e due resistenze veramente grosse a 2233 e 2268 come potete vedere qui quindi vedremo eventuali rotture per me potrebbero portare forza e ritrovare un e 23 trend che per il momento rimane rialzista a meno di rotture al di sotto di 20 e 72 che potrebbe riconsegnarsi un euro dollaro in una fascia verso un e 20 poi però per il momento non c'è di questo pericolo però vedremo nelle prossime ore e andiamo avanti con il petrolio che abbiamo detto già da diverse settimane che il trend è rialzista lo riconfermo siamo attaccati ai massimi storici di 67 86 qua c'è subito un bel supporto a 65 e 55 che il mercato comunque sta tenendo nelle ultime ore nelle ultime sedute credo che il petrolio potrebbe addirittura rivedere il 67 86 e questa volta magari romperle provo a sbilanciarmi un po' anche se non amo fare grosse previsioni però diciamo che il trend è rialzista almeno fino alle tenute di 60 dell'area 60 che è abbastanza distante me ne rendo conto però tutta questa fascia è un'accumulazione eh da parte del petrolio quindi non si può dire un trend ribassista in questo caso eh qua siamo veramente molto forti sul petrolio però i scenari cambiano molto velocemente sul petrolio quindi non è neanche mai facile eh farci un'analisi approfondita però come possiamo vedere già da tante settimane eh abbiamo sempre detto che ha una forza veramente estrema occhio alla rottura della resistenza qua sopra perché secondo me poi potrebbe pian pianino addirittura vedere anche i settanta eh quindi vedremo un po' quello che succederà due supporti sono qua sotto 61 e 50 e 59 e 70 che sono abbastanza distanti però eh bisogna anche vedere la volatilità che sta avendo il petrolio nelle ultime sedute quindi mi eh riservo di dare dei livelli abbastanza distanti eh andando avanti con il Nasdaq eccoci qua con il Nasdaq resistenza tredicimila sette e settanta che il mercato non ha rotto nella giornata di venerdì vedremo se eh nelle prossime ore romperà fase di pausa un po' di riflessione da martedì a venerdì vedete che non si è mosso in eh cento praticamente il Nasdaq si è mosso in centosessanta punti neanche di range che non è una cosa normale mi aspetto una rottura eh violenta da parte di o tredicimila sette e sessanta o dei minimi delle delle scorse ore quindi attenzione perché la volatilità è in fase di esplosiva a mio avviso e questo non è un bel grafico per il Nasdaq però non in senso negativo ma a livello proprio di volatilità quindi mi aspetto grossi movimenti nelle prossime sedute magari non questa settimana ma nelle prossime settimane mi aspetto qualcosa di abbastanza importante e resistenza grossa quindi ripeto a tredicimila sette e settanta e eh tredicimila nove venticinque i supporti sono a tredicimila cinque quarantadue tredicimila tre trenta e vedremo un po' quello che succederà tre trenta che rimane in livello veramente fondamentale sparti acque tra un rialzo deciso e eventualmente un ribasso sotto i tredicimila quindi attenzione a tredicimila tre trenta che eh l'abbiamo visto per diverse settimane eh sterlina fortissima ormai lo ripeto credo da diversi mesi eh sono i primi che si sono ripresi adesso vedremo con anche il covid ma eh sono saliti un po' i casi nelle ultime ore però credo che eh a livello proprio di ripresa la sterlina e e la l'Inghilterra si siano veramente messi in una strada molto buona quindi questo comporta delle buonissime salite della sterlina che credo che continui a salire adesso abbiamo dei supporti qua quarantuno e quaranta e trentatré questi sono due supporti interessanti eh attenzione alla rottura di quarantadue trentotto perché per me poi potrebbe far allungare anche a quarantatré la sterlina quindi attenzione a questa forte resistenza vedremo se sarà in grado il mercato di romperla ma eh in questo momento ci sono un po' tutti gli ingredienti per andare a rompere quindi dollaro anche abbastanza debole e vedremo dai nelle prossime ore però credo che eh possiamo vedere ancora qualcosa di interessante a rialzo per la sterlina gli altri sono tutti i livelli di supporto vedremo se il mercato dovrà ancora nuovamente toccarli per riprovare poi a salire però credo che la strada abbastanza importante a rialzo eh dollaro Canada ormai lo diciamo da mesi e mesi e mesi sempre a ribasso per ora non da segni di ripresa anche qui queste piccole finte ma alla fine torna sempre sotto ventidue e mezzo per me è l'area per tentare di ribaltare qualcosina e tornare almeno fino a un e ventiquattro ma eh la vedo in questo momento ancora dura 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 supporti a venti e trenta e diciannove e cinquanta andando avanti con il Mib che ripeto mercoledì eh due giugno sarà regolarmente aperto eh resistenza che avevamo segnalato domenica scorsa raggiunta venticinquemila centosettanta toccata mercato rallentato un pochino però questa chiusura sembra veramente abbastanza importante per rompere finalmente questa resistenza importante e andare ad attaccare i i massimi di febbraio duemilaventi quindi eh venticinquemila cinque trenta che è il livello ufficiale pre covid eh il Mib è molto indietro rispetto al DAX e alle altre borse perché deve recuperare ancora i massimi del del pre covid quindi eh per me con questa forza di tutto il comparto eh borsistico poi anche il comparto bancario energetico sul Mib potrebbe fare ancora eh trovare forza al Mib per ritrovare i venticinquemila cinque trenta dove lì si gioca un'altra partita però iniziamo a rompere bene con un bello allungo magari nelle prossime ore questa resistenza qui e per arrivare al target sopra i supporti a ventiquattromila seottanta ventiquattromila due ventiquattro sono confermati e quindi andiamo avanti un po questa un po la linea sul Mib che rimane in questo momento ancora rialzista chiudendo con l'SMP 500 anche lui rimane rialzista almeno fino alla tenuta di quattromila da da lì potremmo vedere un po di indebolimento ma eh in questo momento nessun indebolimento anzi sembrerebbe andare a ritrovare dei massimi però vedremo nelle prossime ore supporto vicino a quattromila centottanta e quattromila centoquattordici eh questo è tutto ragazzi io vi auguro una buona domenica vi ricordo martedì c'è il link qua sotto alle ore ventuno siamo da IG è il primo nostro evento di una lunga serie visto che saremo siamo ospiti nella loro Academy quindi molto bene eh un grande traguardo per noi di OG e quindi vi vi registrate qui sotto nel link che trovate sotto il video e ci vediamo poi martedì alle ore ventuno ciao ragazzi ciao ciao ciao